Un manovale edile milanese di 42 anni è stato arrestato per estorsione continuata ai danni di un collega piacentino. Per motivi di lavoro i due erano diventati amici ma ben presto il rapporto si è trasformato in un incubo per il 39enne della nostra città. Il milanese infatti ha iniziato a chiedergli soldi con minacce sempre più pesanti. Ammazzo te e tua sorella, vi brucio la casa, prepara la bara per domani che vi do fuoco, è persino arrivato a dirgli. Il tutto per ottenere denaro. In tre differenti tranche il piacentino gli ha dato 2.500 euro facendo anche un debito con alcuni conoscenti e si è deciso a rivolgersi ai carabinieri della stazione principale di Piacenza dopo che il 42enne gli aveva fatto firmare con la forza un documento postdatato in cui risultava creditore nei suoi confronti di 9.000 euro. I militari hanno dunque avviato le indagini arrestando il presunto estorsore. È stato il giudice Giuseppe Bersani, su richiesta del pubblico ministero Michela Versini, a emettere l'ordinanza di custodia cautelare in carcere che ha posto fine all'incubo che per il piacentino durava dal giugno scorso.